Ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Viking Games TV Signori, vi dovevo fare un video Sì, lo so, lo dovevo fare prima Però purtroppo ho ripreso a lavorare La situazione è un po' complicata Diciamo che sto apprendendo i ritmi del lavoro E... parecchi anche muscoli indolenziti e malconci Ma a parte questo, oggi vi porto un video che vi spiegherà dove si trovano i boss Ok, che l'avrei già dovuto fare da un po' Ma me lo chiedete, quindi vi chiedo scusa per il ritardo Ma ve lo faccio comunque Vi faccio il video che vi spiega dove si trovano i boss e come evocarli Adesso andiamo a vedere uno per uno dove si trovano i materiali richiesti Ma prima di iniziare lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale Attivate la campanellina, le notificazioni Così rimarrete sempre aggiornati con nuovi video sul canale Ed ora, andiamo al video Signori, su Diablo 4 ci sono gli end boss Che andiamo ad evocare per riuscire a migliorare costantemente le nostre build Ora andiamo a vedere il primo di questi Che si trova nella via oscura Che sarebbe il nostro amico Lord Zir Quindi andiamo a vedere Siamo ritornati Quindi andiamo verso l'entrata Basta venire verso adesso C'è la stradina che ci porta esattamente lì Come vedete ci sono già dei player qui davanti Entrate Questa bella porticciola Che bello sto barbaro Che bello lello Mardiro Poi andiamo verso il punto di evocazione Beh anche se non li ammazzate allo testo Sono di livello sentente vasto Come vedete qua possiamo andare a trovarlo Qui poi in centro abbiamo l'altare Ed ecco che cosa ci serve Nel mondo tier 3 ci servono 5 sangue squisito Nel mondo tier 4 ce ne vogliono 9 Una volta che avete attivato l'altare Lord Zir compare qui E si trasforma in una binorme bestia Stad sangue Bruea Ora andiamo a vedere la prossima evocazione Che è la più semplice da trovare Andiamo nell'albero dei sussurri Che vi faccio vedere come si va ad evocare signor Varshan C'è un video sul canale che vi spiega anche come scambiare certi oggetti di evocazione Con altri oggetti di evocazione che magari vi servono Ve lo lascerò probabilmente nel card Oppure in un'unica indesione Una volta arrivati come avete visto Di fianco all'albero c'è il buco per scendere O il passaggio Poi una volta fatto arriviamo qui Dove c'è l'altare di evocazione di Lord di Varshan Allora nel mondo tier 3 possiamo evocarlo con la testa del gargogliante Gargogliante Con la testa gorgogliante Il femore annerito E la mano tremante Ok? Tre oggetti richiesti nel mondo tier 3 Nel mondo tier 4 dobbiamo avere anche il cuore a bietto Vi ricordo che nel mondo tier 4 è più forte Quindi mi raccomando non cercate magari di venire qua a livello 72-73 O anzi potete anche magari venire ma dovete avere una build molto ben fatta Per riuscire a sconfiggerlo Altrimenti vi darà tante belle sberle Ora andiamo a vedere un'altra evocation Allora come vedete qua c'è crepaccio spallancato Ma prima andiamo a vedere cueto Tra l'altro una cosa che non vi ho detto Come vedete le evocazioni dove si trovano C'è effettivamente il cancello con un testio demoniaco sopra Molto ben in evidente così da riuscire a capire che questo è effettivamente un punto di evocation Vedete 1, 2, poi 3 e 4 Ma questo qua è per il nostro amico del ghiacciolo Mi sembrava, l'avevo perso Scissione glaciale Comunque per riuscire ad attivare questo è un altro metodo Non dovete andare nel dungeon Perché tanto non lo riuscirete ad adattare Ma dovete avere un determinato oggetto E andare dal nostro amico occulta Per riuscire ad andare ad affrontare la bestia nel ghiaccio Bisognerà venire qui e creare questo scissione glaciale Come vedete ci serve della paura distillata Che questo oggetto lo troviamo Scusate non vi avevo detto dove si trovano gli oggetti da evocazioni Allora per la bestia nel ghiaccio Paura distillata la trovate nei dungeon nightmare Una volta che li fate teoricamente li droppate Sia dalle casse all'interno del dungeon Sia dai boss o dagli elite È un drop rate quindi non è facile trovarlo Ci impiegate un po' Più andate avanti con i livelli dei dungeon Più è facile trovarlo E se lo fate in gruppo ancora meglio Perché il drop rate aumenta E quindi è molto più semplice da trovare Poi andiamo ad analizzare questo Per Lord Varshan Per Varshan la sua evocazione servono questi oggetti più il cuore Questi li trovate all'interno della zona della raccolta del sangue All'interno di questa zona facendo delle missioni O anche evocando i tre altari che ci sono qui Per fare la raccolta del sangue Riuscite a dropparlo facilmente E inoltre quando andate a fare le legioni I boss mondiali Anche se l'avete già fatto della settimana Andate comunque a farlo Perché è probabile che spawni un mostro Alla fine sia della legione Che del boss mondiale Che vi droppa un oggetto di evocazione Per Varshan Quindi andateli a fare Ma non solo per questo Vi farò anche un video Descrivendo i 5 metodi migliori Per riuscire a mettere a posto il vostro set O il vostro equipaggiamento Per riuscire a droppare L'equipaggiamento di livello 925 più facile Quindi rimanete sintonizzati al canale Perché questa settimana dovrei riuscire a farlo uscire Penso venerdì Speriamo in bene Ma penso venerdì Questo video probabilmente è uscito O uscirà comunque mercoledì Quindi mi raccomando Seguite la progressione Perché cercherò comunque di far uscire almeno Due video questa settimana Mercoledì e venerdì Siccome lunedì non ci sono riusciti Siccome ho avuto dei problemi In questa bambina Ora andiamo a vedere gli altri oggettini Che ci servono Allora innanzitutto andiamo a trovare Il nostro amicone qua Vi ho già detto il sigillo da evocare Per la bestia nel ghiaccio Per Varshan Anche per giusto Un'altra cosa molto importante Il sangue squisito Il sangue squisito viene ottenuto Sempre dai boss mondiali E dagli eventi di legione Quindi una volta completato E aperto le casse Probabilmente riuscirete a dropparli Nei boss mondiali Sapete che poi alla fine Lui gli rilascia Un piccolo loot per terra Dovreste riuscire a dropparlo Anche lì È un drop rate Quindi è come anche La questione della paura distillata Può essere che lo trovate Può essere di no So che però Il sangue squisito Ha un drop rate elevato Quindi è più probabile Che lo trovate Anziché no E ora andiamo verso la zona di evocazione Ecco qua Benedetto della luce Qua vi servono ferro vivente Il ferro vivente Lo droppate All'interno delle All'interno delle maree infernali Quindi andateli a fare Sono quei bauli Da 300 punti Da aprire Ora siccome è cambiato Parecchio nel gioco Sono più facili da droppare Siccome ora te ne danno 5 all'interno della cassa Ma c'è una probabilità Di trovarne 10 Una volta che avete aperto Queste due casse Ricordatevi che anche Le altre casse Presenti all'interno Della mappa Vi possono droppare Almeno uno di questi Quindi conviene farli Conviene farne I più bauli possibili Quindi fate quelli da 300 E poi magari Fate quelli da 250 E poi andate a fare Quei bauli Che costano 75 Così almeno Ne droppate un sacco Se andate in gruppo Vi ricordo che è sempre meglio Perché comunque Il drop Della moneta Per aprire i bauli Diventa più alto Quindi ne droppate Molto di più E anche il drop rate Di oggetti migliori All'interno delle casse Come quando siamo in party Sapete che Più siamo Meglio è Quindi aumenta il drop rate Aumenta più esperienza Aumenta un sacco di roba Ora che abbiamo visto Come evocare Il nostro amico Santo Galvanico Cioè Grigoir Andiamo a vedere Come si evoca Il nostro amicone Del crepaccio spallancato Ora andiamo a vedere Come vedete qui Nella zona della mappa E dove possiamo andare Ad evocarlo Troverete spesso Personaggi di livello 100 Cercando parti Per fare Questa evocazione Più volte Quindi magari Se potete evocarlo Alcune volte Ditelo Nella chat commerciale Magari Che è sicuro Che magari Trovate qualcuno Per farlo Vi ricordo che farlo da soli Non Cioè Potete farlo Ma non con drop rate Più alto Trovate oggetti migliori E c'è anche Un Un Trucchetto Che è portare Un personaggio Di livello Basso In questo dungeon Per riuscire a droppare Gli unici Ok Droppare gli uber Unici Più facilmente E anche quelli Estremamente Difficili da droppare Che hanno un drop rate Molto basso Come ad esempio La L'arlequino Oppure Il nonno La spada a due mani Che ti dà un critico Assurdo L'arlequin È quella che ti dà Più quattro A tutte le abilità Che possiedi Quindi è rotta Andiamo a vedere Nell'altare Che cosa ci servono Due oggetti particolari Uovo ricoperto di muco Che lo troviamo Da Varshan E frammento dell'agonia Che lo troviamo Da Gregor Gregorie O come cacchio si chiama Ora andiamo a vedere Dove si trovano Così vi faccio il reso conto Gregorio Callà Sala dei penitenti Poi Varshan Lo troviamo Nel cunicolo Abieto Ci servono Questi due Che ci dropperanno Gli oggetti Per riuscire Ad andare Ad affrontarli Quindi avete capito Che dovremmo Almeno affrontare Lord Varshan A ventesime volte E anche Gregorio Ventesime volte Ok signori Questo è un reso conto Dei boss Come si evocano E dove si trovano Così almeno Sapete dove trovarli E cosa fare Per evocare Vi ho fatto un reso conto Anche di dove si trovano I diversi oggetti Di evocazione E come fare Per ottenerli Quindi lasciate il vostro like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Delle notificazioni Così rimarrete sempre aggiornati Con nuovi video Build News e informazioni Sul canale News e informazioni C'è la stessa cosa Vi ringrazio ancora E alla prossima Ciao Ciao Ciao